Sole e vento accompagnano sul campo del Sanguinetti di quarto alto i padroni di casa dell'Atletico e i ponentini dell'Old Boys Rensen, ultimo treno per i ragazzi di Mr. Marchetti per inseguire la zona playoff, mentre gli ospiti servono punti fondamentali in chiave salvezza. Parte forte l'Old Boys Rensen, il tiro da fuori di Carpignano, è il preludio al gol che arriva al minuto 21, cross dalla sinistra di Valle, buca la difesa giallo-blu, sbuca in area di rigore Enrico Damonte, il numero 8, batte torre e porta in vantaggio i suoi, vantaggio che dura però pochi giri di orologio perché il capitano giallo-blu Fabiano sgancia un missile terra-aria, la base di lancio è dai 30 metri l'obiettivo, l'incrocio dei pali colpito e affondato, 1-1 pareggia l'Atletico. Atletico ancora pericoloso su punizione, questa volta uno schema che premia Santa Maria, il suo sinistro colpisce la traversa, è un finale di primo tempo a tinte giallo-blu a Sanguinetti, prima 0 che serve Ferrara, quest'ultimo gira male per Ferrari che da pochi passi non addomestica la sfera, poi ancora Molinari da fuori, si oppone Bruzzone. Si va all'intervallo nella ripresa al cinquantesimo minuto Sdino di Genova e Spelle Ferrari, protagonista di un calcione gratuito sulla linea laterale del campo, l'Atletico non patisce l'inferiorità numerica, discesa di Fabiano che serve sulla sinistra a Boasi, botta terrificante dell'ex Athletic Club che si spegne sul palo. Nel finale di gara prova a vincere all'All Boys Rensen ma la compagine di Mr. Rolandone trova un super torre a dire di no, prima a Carpignano, poi straordinaria parata negare la gloria al colpo di testa di Caviglia. Tecnica, reattività, esplosività, giù il cappello, torre che nulla avrebbe petuto sulla sventola di Robello, palla che si stampa sulla traversa e poi con l'addome il portiere di casa inchioda a terra il pallone, così come il risultato finisce 1-1 tra Atletico 4 e Old Boys Rensen, un pareggio che fondamentalmente serve a poco ad entrambe le compagini.